Buon Natale è già arrivato e degli amici speciali mi hanno mandato dei regali stupendi, vi faccio vedere qualcosa. Intanto partiamo da degli orecchini, questo ho già indossato e quest'altro paio di fraleoni, vi ringrazio perché secondo me sono super di design, grazie. Acqua viva, di solito ha dei costumi, infatti è un costume, perché vedete che mi sto allenando e quindi secondo voi lo potrò indossare, bravi, dal mio amico Mario Dieci, finalmente genio. Foulard, bellissimo tra l'altro, mi piace molto questa fantasia, edizione limitata e dentro... Wow, stupendo, grazie, grazie Mario. E adesso guardate, è un robottino tecnologico, insegna tutto, per i 3 e 8 anni di Lesciani, perfetto. Li copre tutti e due. Mia amica Cristina è sempre geniale. Questa con un sacco di suoi prodotti, che mi piacciono da morire, c'è anche il gioco della fagiana e poi, scusate, i cazzini, cotechino e zampone che io metto e trovo fantanno con questo maglione che mi hanno mandato, dove c'è una frase e pare che io la dica sempre. Ma, chissà se è vero. Grazie, grazie a tutti quanti, perché avere tutti questi regali meravigliosi, soprattutto per questo Natale, non possiamo manco abbracciarci. Sanno con questo maglione che mi hanno mandato, dove c'è una frase e pare che io la dica sempre. Ma, chissà se è vero. Grazie, grazie a tutti quanti, perché avere tutti questi regali meravigliosi, soprattutto per questo Natale, che mi hanno mandato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.